Nutrizione, obesità, diabete e disturbi dell'alimentazione. Dalle evidenze alla realtà. Medici e specialisti a confronto nel convegno promosso dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, sezioni di Abruzzo e Molise a Città Sant'Angelo. Il referente regionale, il dottor Paolo Di Berardino. I disturbi dell'alimentazione possono colpire i più giovani sin dall'infanzia e dall'adolescenza, spiega, il più pericoloso dei disturbi è l'anoressia nervosa che può condurre anche alla morte prematura. I disturbi principali, quelli che insorgono più frequentemente, sono anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, cosiddetto BED, che naturalmente è acronimo di Big Eating Disorder e naturalmente disturbo non altrimenti specificato. Quello più grave è l'anoressia nervosa, in quanto per le complicanze sistemiche che questa malattia, questa patologia purtroppo dà, è una causa di morte, tant'è vero che è la causa di morte nell'età giovanile, dopo gli incidenti stradali, la causa più frequente. Ci sono dati che riguardano particolarmente l'Abruzzo su questo tema? I dati dell'Abruzzo riflettono quelli nazionali del 3-5% attualmente, però teniamo conto che negli ultimi anni, infatti in questo senso, il Ministero della Salute è intervenuto nell'ambito di un progetto di erogazione che è finalizzato all'erogazione di fondi speciali, proprio affinché aumentassero naturalmente i centri dedicati a questi disturbi.